L'antica tecnica dell'intaglio, appartenente al DNA Dolce e Gabbana, corrisponde alle tradizionali camice e i veli sardi che vengono realizzati in cotone, lino e seta. Questi pezzi simboleggiano rispetto e appartenenza alla terra. L'intaglio viene eseguito in tre modi diversi. Il primo è un intaglio su velluto con tulle Illusion che crea trasparenze e giochi di pieni e vuoti dall'effetto leggero e sensuale. La seconda lavorazione è un intaglio su Mikado con organza e su Tash che mette in evidenza i disegni di macrofiori e vuoti. Infine, l'intaglio su Mikado con l'intervento del ricamo all over Paiet Oro ricorda e riproduce il lavoro magistrale delle filigrani. L'intaglio sui